Senti, a te complimenti anche perché, insomma, il successo di Lolita Lobosco e di tua moglie Luisa Ranieri e anche tu in parte perché, insomma, tu hai fortemente, no? Voluto. Ma diciamo che io ho fortemente voluto perché Luisa è pigra. Io ho letto questi romanzi e ho capito che c'era sotto un'idea vincente, forte. Si, è pigra. Parole grosse volano qui. Addirittura. Eh beh, pigra vuol dire tante cose, pigra. No, 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 pigra nel senso che gli ho detto, leggi questa roba qua. Dice, sì, sì, lasciala. L'aveva messo sulla scrivania, sul comodino. Quando sei mesi dopo, finalmente lei ha letto, mi ha detto, dice, ma questa è un'idea bellissima, cioè avevi ragione, compriamo i diritti. E io, per ripicca, le ho detto, peccato, se l'hanno già presi, l'hanno già presi, non ce l'abbiamo più. E dice, no, eh, poi ha detto, se l'abbiamo noi.